bello e bentornati su real napoli football ragazzi abbiamo guadagnato la nostra prima vittoria da quando siamo saliti in divisione 2 bene così andiamo a cercare subito il prossimo avversario e come sempre se volete supportarmi in questa scalata alla divisione 1 con soli giocatori del napoli magari lasciate al video iscrivetevi al canale commentate per farmi sapere che ne pensate di questa scalata napoli ajax tm falcon non vorrei aver visto male ma è posizione 2200 mi sa che il ragazzo è forte andiamo a vedere nostre azioni stanno tutti bene fortunatamente informazioni di avversari 4 3 3 molto molto offensivo praticamente gioca specchio mio io lascerei così ma si andiamo al match partiamo subito top 2000 sarà dura sicuramente sarà dura si parte o si menna palla per lo boccia allarga verso mario lui scende lui appoggia a zielo scende zelischi attenzione zielo prova il dripping niente da fare pedri prova a ripartire palla per messi attenzione arriva pedri scende pedri fino in fondo meret poi anghi sa allarga per politano si gira politano dribbling di politano perde palla matteo senza fallo dice l'arbitro di lorenzo prova in chiusura ancora pedri palla dentro la palla resta lì per kreif messi raccomani e poi zielischi prova a metterla fuori clara scelia recupera palla clara prova ad alzarla verso victor osimen che appoggia dietro male verso anghi sa riparte la ex con bellingham attenzione palla dentro lo bosca chiude alla grande la recupera bellingham però troppo lento lo boh kreif palla fuori palla fuori di nulla stare attenti meretto rilancio lungo di alex meretto simen però a prendere posizione riesce a contrastare ma non a recuperare palla adesso se la va a riprendere o si palla per zielischi che scende allarga per mario rui scenderò eroe eroe dentro per anghi sa la palla passa check rilancio lungo raccomani a colpire zielischi palla ancora per raccomani vada osimen non riesce a recuperare palla lo bocca rallenta lo bo palla per mario rui ritorna da lo bocca scende lo bo lo bo dentro verso simen che tira la parata attenzione caraschelia si porta la palla fuori ci ha provato vittorosi men lo bocca prova a saltare bellingham la palla larga attenzione torna anche zielischi zielo lo bocca alza lo bo la palla verso zielischi allarga per caraschelia dreaming ripara dentro per pietro zielischi vada mario 2 che però era un po in ritardo arriva anghi sa dentro per vittorosi men niente da fare palla dentro attenzione ma adesso cry fa adesso palo incredibile e poi la palla fuori attenzione cry fa ancora palla dentro bellingham gol no meretti invece mamma mia ancora meretti meretti ci salva più volte alex osimen appoggia coraschelia la ridata osimen scende osi dentro per coraschelia che tiene palla quara appoggia per politano riesce a dribblare politano maldini la recupera palla dentro attacca la jax attenzione con bellingham torna lo bocca grandissimo lo bo che appoggia a politano scende politano vada osimen attacco verso anghi sa la palla non passa attenzione anghi sa ruolo palla prova ad andare da caraschelia che appoggia d'osimen la palla non passa a zielischi attenzione alza la palla verso covara schelia bravo l'aumina coraschelia sbaglia il tiro al volo c'è il lancio lungo raccomani a contrasto su cry fa niente da fare ancora anghi sa scende bellingham arriva lo bo ancora scende lo bocca anghi sa palla per zielischi scende zielo appoggia ad anghi sa la palla non arriva perché ci avvierà zielo però se la recupera dentro per covara schelia che arriva covara schelia l'alza per rosimen niente da fare anghi sa dentro per covara schelia qui c'è covara schelia prendiamo mal posizionati i nostri avversari e cavara la mette dentro 1 a 0 1 a 0 attenzione provano loro il kick off adesso lo bocca anghi sa viera palla dentro passa cryf meret era passato cryf alex dice di no attenzione passa bellingham qui bellingham fino in fondo palla fuori politano devi chiedere su arnold viera palla dentro quel fallo su cryf dal limite pericolosissimo pericolosissimo ha un'ottima visuale dello specchio della porta un calcio piazzato che può diventare un punto di svolta della partita nimar palla del cryf aspettavo il tiro loro fanno la giocata ed è 1 a 1 osimen palla per lobo allarga per mario 2 scende lui palla per covara schelia che va dentro malissimo covara schelia mario 2 prova a ripartire all'ajax natan verso covara schelia gran giocata covara tiene palla palla tiene botta dentro per politano brutta giocata qui peccato per il passaggio è stata una bella azione attenzione nemar di lorenzo provano ad andare in chiusura in pressing mentre la fare anghi sa torna anche zielischi palla dentro per cryf che si gira cryf anghi sa recupera palla dentro per covara schelia scende covara dentro per politano sbaglia lo stop povera lo aspettava lì palla dentro per cryf mario 2 recupera su messi scende lui perde palla attenzione natan qui si ferma lo botta non riesce a contrastare pedri che la mette fuori attirato da posizione invitante doveva trovare la porta il lancio lungo di alex meretta verso simenna simenna prova a metterla giù non ci riesce niente da fare anghi sa cavara sporcare questa palla mario lui natan palla per lo botta appoggia mario lui scendiamo palla al piede con mario lui scende lui lui fino in fondo lui cerca dentro vittor check para facile anghi sa non riesce per questa palla lo botta la sporca finisce il primo tempo 1 a 1 partita equilibrata fino ad ora molto molto equilibrato loro hanno tirato molto di più abbiamo provato a tenere il botto entrambi gli allenatori dovranno mettere mano alla lavagnetta per scogitare qualcosa se vogliono portare a casa una vittoria che per il momento non si può ancora avere un indirizzo preciso palla dentro attenzione dell'ajax mario 2 recuperare questo pallone quadraschelia dentro per zieliski zielo dentro per anghi sa non riesce a prendere palla perché poi lo la recupera quadraschelia recupera un gran pallone quadraschelia appoggia per zieliski scende zielo zielo ancora zielo fino in fondo zieliski dentro però vittorosimenn è in bucata pazzesca di pietro zieliski per vittorosimenn ci riportiamo avanti bella giocata di zielo e vittor deve solo appoggiare piano piano palla fuori di lorenzo prova ad andare lungo da vittorosimenn che prova ad appoggiare per lo botta la palla non arriva ma lo bo se la va a riprendere scende lo botta porta palla lo bo attenzione lo bo non riesce poi a passarla perché perde troppo tempo se la va a riprendere zieliski dentro per caraschelia che appoggia lo botta che la ridacca paraschelia prova il dribbling quara perde palla zielo non riesce ad andarsela a riprendere anghi sa quel break di anghi sa dentro per vittorosimenn che perde ancora palla purtroppo deve tornare di lorenzo palla dentro per kraif ancora kraif meret eh grazie grazie però questo è bravo questo è bravo calcio d'angolo qualche cambio per l'ajax attenzione calcio d'angolo nemmeno calcio d'angolo attenzione scegliono sceglie romario palla per romario se la va a prendere lui zieliski esce palla al piede riesce ad andare da zambon vissà che la alza per cavara ma chi mi stava tornando riescono addirittura a ripartire con la palla verso kraif attenzione zieliski niente da fare palla fuori di lorenzo deve chiudere giannino prova a chiudere gli spazi di lorenzo si va a riprendere anche la palla e poi la allunga però si men peccato qui e Bellingham si gira alla grande ed è calcio d'angolo stiamo soffrendo in maniera immane ovviamente calcio d'angolo ancora ancora Pedri con Messi si andrà a prendere la palla Messi probabilmente palla per Messi Pedri ancora zieliski cross in mezzo Meret Meret prova a rilanciare comunque subito verso Victor Rosimane niente da fare zieliski non riesce a prendere la palla Lobotka fantastico Lobo palla per zieliski che allarga per Politano scende Politano palla per Zielu Zielu dentro per Victor Rosimane che può andare Victor Victor perde palla purtroppo peccato peccato prova a ripartire qui grandissimo Nathan Mario Rui scende Rui appoggia per zieliski tacco per Angissà palla per Politano che si gira si ferma poi appoggia per Di Lorenzo che si era però fermato peccato davvero ragazzi peccato Angissà palla per Racamani arriva Lobo chiusura perfetta su Bellingham e poi allarga per Di Lorenzo che fa correre invece no Politano perché la palla non passa passa qui e fanculo però cazzo di Messi di merda si gira in aria 2-2 parigiano va bene inizio 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 è un'ingesilità sfruttata il meglio perdere palla centrocampo è molto rischioso se sbaglio un passaggio così l'errore ti può costare molto caro Ok, ok Vai, facciamo così Simeone, palla per Lobotka Larga Lobo, palla per Angissà che si gira Vada Politano, scende Politano Politano, vada Pasquale Mazzocchi Che ha un po' di campo, Mazzocchi Mazzocchi, si gira Alza verso il ciolito Palla fuori Palla fuori Check, rilancio lungo Lobotka a contrastare Cruyff Niente da fare Angissà Non riesce, dovrei questa palla Mazzocchi, bella lettura di Mazzocchi Poi prova ad allargare La palla non passa Distatto in Tomessi Cruyff, no Ragazzi, no 3-2 Ajax Simeone, palla per Lobotka Attenzione Lobo Porta palla a Lobo Lobotka perde troppo tempo Per decidere cosa fare Riparte la ex con Cruyff Ancora Cruyff Meret Cruyff 4-2 Vabbè 4-2 Simeone Palla per Lobo Che scende subito adesso Verso Maradona Ma va dentro Simeone che non so cosa sta aspettando Lì per entrare Attenzione Simeone Angissà Proviamo a pressare Check Ma che fa? Attenzione Politano Prona a rilanciare Mazzocchi A colpire di testa Verso Politano Fallaccio su Politano Ho la netta sensazione Che comunque si stia cagando sotto il ragazzo Palla per Politano Tensione Maradona Dentro per Matteo Politano Politano L'alza per il ciolito di testa Che cazzo ha preso Check Si è cagato sotto Comunque Perché da quando è andato Avanti due gol Ma stava facendo un melino Si è cagato sotto Ci stai in da fa Bene Meno di pausa Va bene Si è continuo Interruzioni Mamma mia Ragazzi Mamma mia Che odio profondo Nistro Dentro E No Trovre no Ti ha un po' rospatore Vai Vai Maradona Cercherà Mir Racamani Attenzione Maradona Cross Verso Racamani Troppo su Check Che va a smanacciare facile Attenzione Diego Prova Da andare A pressare Diego Palla Rilanciata Dall'altro lato Raspatori Incredibile Escono addirittura Ad andare In contropiede Quasi Palla Loro Incredibile Attenzione Prova ad andare Con Cruyff Palla Verso Romario Che ovviamente Segnante Il 5 a 2 Brutto finale Brutto Brutto finale Simeone Palla per Lobo Dribbla Lobo Dentro per Maradona Si gira Maradona Fallaccio Su Maradona Ragazzi Mamma mia Che senso ha Giovere così Però alla fine Fallaccio Su Maradona Lobotka Prova ad andare Verso Karaskelia Brec Di Gira Ripartono Loro Palla Solita Palla In orizzontale Lo fanno Sì a 2 Con Salava Giunque Queste palle Così Mamma mia Cioè Non si possono Mai prendere Partita Finita Palla Dentro Romario Romario Mario Lui La rilancia Avanti Simeone Lobotka Prova a chiudere Lindstrom Prova a ripartire Lindstrom Allarga Per Karaskelia Scende Karaskelia Che appoggia Per il ciolito Simeone Si fa rubare Palla al ciolito Niente da fare Raspatori Pressing Recupera Palla Raspatori Scende Giacomino Giacomino In realtà Non mi fa Nemmeno Disegnare In questo Stato In questa In questa Occasione Finisce qua 6 a 2 Per loro Partitaccia Ragazzi Finale Tragico Partita Meritatamente Persa Ovviamente Il ragazzo Era forte Ma si poteva Fare molto 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 Di più 25 punti Vabbè